Grazie a tutti. Applausi. Distruzioni sul distributore di caffè ed un bambino che si tuffa dentro ad un bignè. Distruzioni sul distributore di caffè ed un bambino che si tuffa dentro ad un bambino. Un poster che col cuo già scarabocchiato dice vieni tu mi sia. C'è un mare di del luto ed una palma e tu che sogni di fuggire via. Andare lontano. Lontano. Andare lontano. Lontano. E da una radionina accesa arrivano le note di un'orchestra jazz. Un vecchio con gli occhiali spessi un dito cerca la risoluzione al quino. Due donne stanno parlando con le braccia piene di sacchetti di cucchiai. Ed un giornale aperto sulla pagina dei film. E sui binari quanta vita che è passata e quanta che ne passerà. Quei due ragazzi stretti stretti che si fa un promesso e per l'eternità. Un uomo si lamenta d'alta voce del governo e della polizia. E tu che intanto sogni ancora sogni sempre sogni di fuggire via. E andare lontano. 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 E lì tu facci quello delle sette trenta chiudo dentro al tuo bauton. Seduto sopra una panchina fredda del... METRO METRO Molto bella. Io vorrei... Il coraggio di mettere queste cose. Poi quando le vedo mi piacciono. No, no, perché stanno molto bene. Allora votate, attenzione, lampadine, buio in sala, piazza grande di Lucio Dalla. Cantata da Ricchi Portera. Ricchi, brevemente dimmi dove sei, cosa stai facendo in questo periodo. Ma io sto facendo una tournée, si troverà un disco nuovo con dei grossi personaggi. Spero che siano grossi veramente. Il disco nuovo. Il mio, il mio, sì. Il tournée. Per cui chi vuole per l'Italia ti vede, attenzione. Ricchi Portera, 110 voti. Bene, spegnere tutto. Votate per poster di Claudio Baglioni, Italian Sound. Io, io devo dire, ho visto prima, era preoccupato per come... Votate per tenere la camicia aperta o chiusa. Ma con la voce che ha, ma dico... Va bene, posso? Là, perfetto. Lo volevo fare dall'inizio. Allora, Italian Sound, poster 236 voti. Benissimo. Grazie, un applauso a tutti. Italian Sound con poster. Sono 29, è un plebiscito quasi totale, 290 voti per gli Italian Sound. Io saluto Alfredo Tognetti, che è l'allenatore della squadra nazionale calcio, che è uno con i baffi sulla destra. Con gli venti. Allora, velocissimi. Pronti? Ecco, ottavo posto. Abbiamo Piazza Grande, settimo azzurro. Sesto, l'avventura. Quinto posto, viva la mamma. Quarto, non sono degno di te. Terzo, amor mio. Secondo, Caruso. Primo, poster Italian Sound. Primo, quattro, quindi sono poster, Caruso, amor mio e non sono degno di te, rispettivamente cantati da Italian Sound, Andrea Mingardi, Joara e Malla. Naturalmente vorrei ricordare che chi non è passato in questo turno può ripassare nel prossimo. Stanno smontando lo studio. Signore, la trasmissione è terminata. Portiamo via un ricordino. Sì, portiamo via un ricordino. Le casse acustiche. Grazie, arrivederci. Rep. Portiamo. Rep, ti passo la linea. Saluto dalla Baia Imperiale avviene grazie a Yavendesi. No, no, no con Yavendesi bussando le porte del paradiso. Vieni qui, Chiorello. E allora, vi giunga, vi giunga il saluto caloroso, abbronzato ed estivo, scusa, scusa le palle, del pubblico della Baia Imperiale qui a Gavince. Grazie da Fiorello, un grazie da Gino Paoli, un grazie dai nostri romani. A voi studio, ciao! No, certo, devo dire una cosa. Questa puntata è terminata. Sai che... Che sai, Deborah, che... No, non lo so, se non me lo dici non lo posso sapere. Senti, guarda, ti dico una cosa. Tinto Brass mi ha scelto per il suo prossimo film. Nella parte di? Si chiama, è un film che si chiama... Figano è sulla riapertura delle case a schiera. Sapore di mamma.